You and me just wanna live naturally Rosia, Magna Grecia, Film Festival, tre cose porti un libro, un film e un documentario, racconti tu Sono tre pezzi di cuore, il mio secondo romanzo, Dove nasce il sole un film diretto da Francesco Albanese che esce il 7 settembre e un documentario al quale ci tengo tantissimo che verrà presentato in concomitanza della Biennale di Venezia quindi tornerò in quel luogo che mi ha dato così tanto che si chiama Time to Change dove si parla anche di un argomento molto importante i 17 obiettivi dell'ONU per il 2025 quindi anche un modo di richiamarci tutti e farci capire che veramente è il momento di cambiare qualcosa ed è in mano a tutti noi Questi sono i tuoi cuori, cuori che hai gonfiato personalmente anzi non solo, ce ne ho anche altri due il cuore è importante, il cuore è il motore del mondo l'amore, quindi tra l'altro sono due luoghi poi ce ne abbiamo anche un altro vero ma sono due luoghi secondo me dove abbiamo anche un cuore che parla, che dice, che fa altro te bacio, anzi te provo a baciar eh ma non si può puede A presto Grazie Grazie a tutti.